Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, vi ritrovati su Sicilia 24. Apriamo con una news che arriva da Agrigento. Una testa di terracotta della dea Atena Elmata riemerge dallo scavo vicino il Tempio D ad Agrigento. Il ritrovamento da parte di un'equip di ricerca della Scuola Normale Superiore di Pisa consentirebbe di attribuire il culto del Tempio ad Atena e non a Era Giunone come avvenuto finora. La testa è stata trovata nell'ambito della terza campagna di scavo della Scuola Normale Superiore sotto la supervisione scientifica del professor Gianfranco Adornato e di Maria Concetta Parello, funzionaria archeologa del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Se supportato da altre evidenze archeologiche, afferma Adornato, associato di archeologia classica alla scuola normale, il culto di Atena nel santuario del Tempio D sulla collina meridionale andrà a sostituire definitivamente l'intitolazione del Tempio a Era Lacinia proposta da Tommaso Fasello nel 1558. Ed ora una notizia che riguarda invece le elezioni regionali perché non ci sono ancora i dati definitivi. A 12 giorni, infatti, dall'inizio dello spoglio ci sono ancora delle sezioni da scrutinare. Queste sezioni sono nel Siracusano, ad Agrigento e due nel comune di Villalba, nel Nisseno. Al momento, dunque, non possono essere attribuiti i seggi e dichiarare eletti i deputati regionali, mentre non è in discussione chiaramente la vittoria del nuovo presidente della regione siciliana, Renato Schifani, la cui elezione però deve essere ancora proclamata. Una tragica notizia arriva invece da Lampedusa, parliamo di migranti. Il cadavere di un migrante, infatti, è stato recuperato a circa 6 miglia dalla costa di Lampedusa, dai carabinieri che erano in servizio di perlustrazione con la moto vedetta. Il cadavere è in decomposizione e dunque la morte risalirebbe a diverse settimane fa, ma non c'è ancora nessuna certezza. È stata ovviamente avvisata la procura di Agrigento. Intanto sono ripresi gli sbarchi, sono ripresi i viaggi delle barche con i migranti verso l'isola di Lampedusa. Da ieri sera, infatti, sono stati soccorsi 5 natanti con 76 persone a bordo. Notizia di cronaca da Catania. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno tratto in arresto un 48enne catanese per il reato di evasione. I militari si sono recati in zona porto, presso l'abitazione del 48enne, sottoposto ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Il controllo è scattato dopo che la centrale operativa aveva ricevuto l'attivazione di allarme dal braccialetto elettronico del pregiudicato, che infatti non si trovava in casa. Sono quindi scattate le ricerche dell'uomo privo di alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal proprio domicilio. Ricerche che hanno consentito di rintracciarlo in piazza dei martiri all'uscita da un ristorante, dopo che si era goduto la sua cena. Il 48enne ovviamente è stato arrestato e ricollocato ai domiciliari. Ci spostiamo adesso nel Ragusano, per la precisione a Vittoria, dove due ladri hanno tentato di rubare all'interno di un negozio di abbigliamento, ma sono intervenuti tempestivamente i poliziotti che li hanno sorpresi e uno dei due ladri è finito in manette. Personale del commissariato di polizia di Vittoria ha tratto in arresto un soggetto che stava per compiere un furto all'interno di un negozio di abbigliamento con l'aiuto di un complice. Gli operatori della volante, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Bixio a seguito di una segnalazione di furto in atto in un negozio. Sul posto il personale ha notato due soggetti, con il volto travisato, che si sono dati alla fuga tra le vie limitrofe, cercando di far perdere le loro tracce. Gli operatori si sono messi all'inseguimento dei fuggitivi, riuscendo a bloccarne uno, noto alle forze di polizia per diversi reati, tra cui furto aggravato, ricettazione, lesioni personali, resistenza e violenza pubblico ufficiale, in atto sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e gravato dalla misura di prevenzione personale dell'avviso orale. Dai successivi accertamenti svolti, il personale del commissariato di Vittoria ha avuto modo di appurare che i due soggetti, dopo aver danneggiato il vetro della porta d'ingresso del negozio, sono riusciti ad accedere all'interno, senza tuttavia riuscire a compiere il furto poiché scoperti dagli agenti della volante. L'arrestato, colto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato, dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Proseguono le attività investigative per risalire all'identità del complice. A Palermo la polizia ha effettuato dei controlli in un'abitazione del quartiere Brancaccio, rinvenendo droga e materiale esplodente. Una sessantenne è stato arrestato. La polizia di Stato ha rinvenuto a Palermo, in un'abitazione del quartiere Brancaccio, quasi 600 grammi di droga tra ascisce e cocaina e materiale esplodente per un peso complessivo di circa 16 chilogrammi. In arresto un sessantenne palermitano presunto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di materiale esplodente o esplosivo. A seguito di mirate ipotesi investigative, i poliziotti appartenenti alla squadra investigativa del Comando di Polizia di Stato Brancaccio, con l'ausilio del personale della squadra cinofili dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo. L'esito dei controlli è stato positivo, poiché gli agenti sono riusciti a scovare una busta di plastica contenente 5 panetti da 100 grammi cada uno di hashish e 11 dosi della stessa sostanza, confezionate singolarmente e pronte per essere poste in vendita. Inoltre è stato rinvenuto un pezzo intero di cocaina confezionato sotto vuoto, ma anche altre 28 dosi confezionate singolarmente per un peso complessivo di 58 grammi circa. Durante la perquisizione domiciliare, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto nel terrazzo veranda otto scatole di cartone contenenti oltre 1600 pezzi, tra petardi e batterie, di materiale esplodente con principio attivo netto, per un totale complessivo di circa 16 kg, per cui è stato chiesto l'intervento di personale degli artificieri della locale Questura. Infine sono stati trovati 395 euro in banconote di vario taglio, possibile provento dell'attività illecita. L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere Lorusso di Pagliarelli in attesa di giudizio di convalida. E sempre a Palermo la polizia ha tratto in arresto e posto ai domiciliari una donna palermitana di 31 anni con l'accusa di stalking. La donna infatti avrebbe incendiato l'auto della nuova compagna del suo ex fidanzato e avrebbe anche danneggiato, utilizzando dell'acido, la vettura dell'ex. A incastrare la 31enne sarebbero state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Tuttavia l'auto danneggiata non apparteneva alla nuova compagna dell'ex fidanzato, ma era di proprietà dell'ex di quest'ultima, il quale gliel'aveva lasciata usare. Ed ora ci spostiamo virtualmente a Catania dove una donna, una donna ucraina, è stata picchiata, pestata a sangue perché si rifiutava di spacciare droga. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia. La procura distrettuale della Repubblica di Catania ha delegato alla Polizia di Stato l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale nei confronti di Sebastiano Sicali, catanese, con precedenti di polizia per illeciti in tema di stupefacenti e reati contro il patrimonio e già destinatario di un ordine di esecuzione per carcerazione emesso dal magistrato di sorveglianza di Messina. L'uomo è gravemente indiziato dei reati aggravati di lesioni personali gravi e violenza sessuale, in concorso con un soggetto non identificato e una minorenne. Il provvedimento restrittivo è stato emesso all'esito di indagini coordinate dalla procura e svolte dalla squadra mobile, avviate lo scorso 12 luglio a seguito della segnalazione giunta alla sala operativa della questura etnea di una donna ucraina vittima di un'aggressione all'interno di una struttura ricettiva nel centro cittadino. La donna presentava evidenti segni di percosse e molteplici ferite lacero contuse sul viso e in altre parti del corpo. L'uomo, che avrebbe aggredito la vittima perché si era rifiutata di spacciare stupefacenti, è stato rintracciato dagli operatori della squadra mobile di Catania e tratto in arresto oltre che per l'ordine di esecuzione del magistrato di sorveglianza, anche per i reati di false attestazioni di generalità, resistenza, oltraggio, violenza e minacce a pubblico ufficiale, avendo all'atto del controllo fornito agli operatori indicazioni mendaci sulla sua identità al fine di sottrarsi alla cattura. La misura cautelare, emessa lo scorso 3 ottobre, è stata notificata a Sicali presso il carcere dove è attualmente ristretto. A Castel di Iudica, nella Catanese, è stato fermato un 27enne per la rapina commessa delle scorse settimane, rapina che ha causato purtroppo la morte di un anziano avvenuta qualche giorno dopo in ospedale. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania, coadiuvati da quelli della compagnia di Palagonia, hanno fermato un cittadino straniero gravemente indiziato della rapina commessa in danno dell'avvocato 83enne in pensione, Salvatore Laudani, all'interno della sua abitazione di Borgo Franchetto, nel comune di Castel di Iudica, a seguito della quale, lo scorso 9 settembre, l'anziano ha perso la vita presso l'ospedale San Marco di Catania, dove era giunto già in coma per emorragia cerebrale in conseguenza delle percosse subite. Si tratta di un 27enne rumeno, bracciante agricolo, residente a Niscemi, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il quale, stretto nelle maglie delle incessanti indagini svolte dai militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltagirone, era intento a lasciare il territorio nazionale. Infatti i carabinieri del comando di Piazza Verga lo hanno bloccato a bordo di un pullman nel territorio del comune di Vizzini, mentre era diretto in Romania. Gli investigatori sono riusciti a risalire al 27enne, noto nella comunità rumena con il soprannome di Volpe, grazie all'esame delle persone che negli ultimi anni avevano avuto a qualsiasi tipo un rapporto con la vittima. In tale contesto sono emersi, in particolare, alcuni soggetti di nazionalità rumena che avevano abitato per un breve periodo all'interno di un'abitazione attigua a quella della vittima. Gli approfondimenti su questo nucleo familiare rumeno hanno quindi consentito di giungere alla figura del 27enne. Si è perciò riusciti ad accertare come lo stesso, nella notte tra il 4 e il 5 settembre, fosse entrato nell'abitazione del povero malcapitato al fine di rubargli i risparmi, colpendolo al volto e immobilizzandolo con nastro adesivo, riuscendo a impossessarsi di circa 12 mila euro per poi lasciarlo agonizzante. Determinanti al fine di individuare compiutamente l'autore dell'efferato delitto sono stati inoltre anche gli elementi raccolti durante il sopralluogo effettuato sulla scena del crimine dai carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche del nucleo investigativo. È stata infatti rinvenuta una bottiglia di birra riversa sul pavimento della camera da letto dell'anziano, da cui sono state estrapolate delle tracce biologiche. I successivi accertamenti di laboratorio svolti dal RIS di Messina hanno consentito di giungere alla loro compatibilità con il profilo genetico del 27enne. Il fermato, dopo la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale Calatino, si trova attualmente detenuto presso la casa circondariale di Caltagirone in stato di custodia cautelare. E ora una notizia di cronaca dall'Agrigentino per la precisione da Sciacca, dove i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un giovane di 27 anni residente a Ribera, un giovane con precedenti di polizia. Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno intimato l'alt all'autovettura guidata dal 27enne, il quale ha arrestato la marcia 150 metri dopo per poi gettare fuori dal finestrino un involucro. Involucro che è stato ovviamente recuperato dai carabinieri, i quali hanno rinvenuto un panetto di hashish di 95 grammi circa. A bordo dell'auto c'era anche la convivente del giovane, la quale è stata invece trovata in possesso di un pezzetto di hashish del peso di 3 grammi circa. Arrestato e posto ai domiciliari, al 27enne è stato imposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza. E questa era l'ultima notizia, per il momento è tutto, non ci sono aggiornamenti, dunque chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ma l'informazione prosegue su Sicilia 24, quindi ci rivediamo più tardi, vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.